Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. In A1 code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. Rallentamenti per un veicolo in avaria tra il bivio con la variante di Valico e Badia in direzione Roma e per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Aglio in direzione Bologna. In FIPILI in direzione Livorno code a tratti tra Scandicci e la Strassigna e in uscita alla Strassigna. In direzione Firenze code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Per la viabilità cittadina a Firenze sono in funzione i distorsori mobili in piazza Strozzi. Dispositivi alzati tutti i giorni feriali e festivi eccetto nelle fasce orarie 6, 9, 18, 19 e 30 nelle quali è consentito l'accesso dei mezzi autorizzati. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!